Come superamento dell'incoscienza Cerchio e seno attraverso NT, entità IM Per meglio farvi capire, aggiungiamo che l'organismo individuale, come presupposto e come strumento necessario all'evoluzione, si adegua sempre alle esigenze della coscienza e alle necessità specifiche dello spirito. Per concludere, figli, non sarà inutile una sintesi del concetto generale. L'individuo organico si origina dunque quale fattore essenziale della coscienza e quale mezzo necessario per l'evoluzione dello spirito. L'individuo in senso generale sorge sullo sfondo e come superamento del mondo inorganico, inteso come particolarità materiale, a cui rimane peraltro annesso allo stesso modo che la coscienza, di cui è tramite, si origina sullo sfondo e come superamento dell'incoscienza. Dal punto di vista della consistenza e della struttura figli, la bruta e inflessibile materia è superata nell'individuo nella corporeità pluriforme, corporeità nella quale la materialità è resa gradualmente più malleabile e adeguata ai fini dell'azione che lo spirito, che in essa si rinserra, persegue per conquistare l'esistenza. Terminiamo auspicando che abbiate compreso come la materia tutta, quale elemento della divina creazione, si sottomette alla volontà dello spirito, che se ne serve per le proprie esigenze evolutive. La coscienza, pertanto, è il tramite ideale che consente allo spirito di soddisfare tali esigenze e di raggiungere la meta prefissa.